Sorrido perché scambiavo delle battute ancora prima di presentarvelo con il nostro ospite, l'ospite di Note Musicali. Stavamo scherzando sul numero di copie vendute, adesso arriviamo al tuo lavoro, però volevo presentarvi prima lui come nuovo emigrante italiano, sono dieci anni che sei a Bruxelles, hai studiato chitarra, sei un cantautore, Scendo pedalando è il tuo ultimo lavoro, una storia interessante anche la tua. Beh, spero, spero che possa interessare. Come mai hai deciso di andare a Bruxelles? Perché a Bruxelles in particolare c'erano, ci sono dei conservatori di jazz abbastanza buoni, quindi volevo dopo la laurea a Roma, volevo continuare lo studio della musica in maniera seria e approfondita e quindi ho detto andiamo. All'inizio deve essere un anno, poi due, poi cinque e il resto dieci. Dieci, ma hai intenzione di rimanere o in realtà? Sì, ho intenzione di rimanere su Bruxelles, a meno che non succede qualcosa che stravolge la vita, chi può dirla? Beh, forse possiamo assistere a qualcosa che stravolgerà la tua vita, perché hai molta inventiva e fantasia, innanzitutto hai iniziato con dei concerti, questo è carino anche farlo sapere al nostro pubblico, a domicilio, che è una cosa molto singolare, così come è singolare www.avventurainmusica.com. Ci devi spiegare tutte e due le cose. Allora, i concerti nelle case si chiamano concerts et moi e sono in pratica il frutto della riflessione che per avere un bel concerto serve la musica e il pubblico, il resto è contorno e dov'è che la musica può essere ascoltata in modo intimo, nella casa. Quindi insieme alle persone che partecipano a Avventura in Musica abbiamo deciso di promuovere questo disco che sta per uscire nelle case, quindi in Belgio, in Francia, in Lussemburgo, in Italia e stiamo facendo questi concerts et moi, concerti nelle case, dove ho la possibilità di spiegare chi sono, il mio percorso e far ascoltare le mie canzoni. E invece il sito avventurainmusica.com? Avventurainmusica.com, anche quello frutto di una lunghissima riflessione, data la crisi del mondo della discografia, mi sono detto, ma chi può aiutarmi a produrre questo disco? Chi, se non le persone che ascoltano la mia musica? Allora, attraverso Facebook, attraverso Internet ho chiesto aiuto e il resto ci sono 100 persone che stanno finanziando e sostenendo questo disco che uscirà fra pochi settimane. Allora, siamo impazienti di ascoltare il tuo singolo, però prima, prima devo ringraziare i nostri telespettatori che sono generosissimi, Italia chiama Italia, che ci state scrivendo tanto, continuate a farlo, io ringrazio in particolare un paio di persone che mi hanno colpito con le loro mail, Gio Castellano che ci scrive dall'Australia, lui è andato lì nel 58 dalla Sicilia, ci sarà spazio anche per te nella nostra trasmissione. Leo Conforti invece che ci propone una bellissima storia, anche lui ci scrive da molto lontano dall'America, quindi stiamo prendendo in considerazione tutte le vostre proposte. Fra pochissimo il TG, poi Costanzo Italia e vi ricordo i nostri appuntamenti giovedì prossimo con la nostra consueta puntata del Giovedì d'Italia a Chiama Italia e poi domenica prossima una puntata strepitosa, uno speciale che faremo appositamente per voi alla BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Scendo pedalando a te Giacomo Lariccia alla scena. Grazie. Un po' più avanti. L'amore mio verrò sulle ali di una bici Io ti raggiungerò per essere felici Il sole nasce al sud e cresce contro mano Sono volo ogni villaggio come vola all'aeroplano Questa è una dimostrazione di Flip4Bank Anche questa sera Non smetto di parlare di te a qualunque ora Adesso lascio tutto e mi vedrà arrivare Insella alla mia bici Chi mi potrà fermare Scendo, scendo, scendo pedalando Corro e scappo, scappo e corro al sud Chi ho visto nei miei sogni eri la più bella Col tuo vestito rosso eri la mia stella Tu guiderai i miei passi e sarai involata Che ti raggiungerò nell'Italia liberata Questa è una dimostrazione di Flip4Bank Voglio fare a me di te una notte intera Propezzo sopravviverei a questa tortura Adesso lascio tutto e mi vedrà arrivare Insella alla mia bici Chi mi potrà fermare Scendo, scendo, scendo pedalando Corro, scappo, scappo e corro al sud Questa è una dimostrazione di Flip4Bank Corro, scappo, scappo e corro al sud Corro, scappo e corro al sud Corro, scappo, scappo e corro al sud Questa è una dimostrazione di Flip4Bank Corro, scappo, scappo e corro al sud Questa è una dimostrazione di Flip4Bank Questa è una dimostrazione di Flip4Bank